L'azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Teramo ha annunciato che saranno 45 gli edifici, 255 gli alloggi interessati dal progetto Tiger, un'ambiziosa iniziativa finanziata dalla comunità europea che mira alla riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico. In questi giorni gli inquilini che vivono in quegli alloggi stanno ricevendo la comunicazione relativa all'avvio della fase operativa del progetto e saranno contattati a stretto giro per l'organizzazione dei sopralluoghi da parte di personale specializzato, selezionato direttamente dall'ATER che procederà ad una valutazione dell'efficienza energetica, ovvero un'accurata analisi preliminare per verificare lo stato degli impianti esistenti e le caratteristiche della struttura del fabbricato. Un programma nel quale crediamo moltissimo, ha dichiarato la presidente dell'ATER di Teramo Maria Ceci perché quella di ridurre le emissioni di carbonio è una delle grandi sfide del futuro. E con Tiger puntiamo di concerto con la regione Abruzzo e le altre quattro ATER regionali a realizzare interventi su oltre 1.500 alloggi di dirizia residenziale pubblica in 126 edifici di 58 comuni in Abruzzo, che porteranno a risparmi energetici stimati superiori al 30% e a una riduzione delle emissioni nocive pari a oltre 1.760 tornellate annue. Secondo l'ATER Teramana la fase fondamentale del progetto è quella della partecipazione perché quello dei cittadini deve essere un ruolo attivo di condivisione delle buone pratiche di comportamento e di vita. Per questo saranno organizzati incontri informativi durante i quali i 150 inquilini riceveranno informazioni e materiale sulle tematiche trattate dal progetto. Analizzati da esperti i dati sui consumi e sui costi energetici dei singoli appartamenti che esaminando fatture e bollette saranno così individuati i possibili interventi migliorativi che comprenderanno interventi di ristrutturazione dell'edificio e la sostituzione e modifica degli impianti esistenti.